Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Oggi siamo in una nuova puntata di periferiche per il gaming. Oggi voglio tornare a parlarvi di un altro stick. Uno stick che se mi conoscete sapete come la penso. Oggi vi parlo dell'Ori Fighting Stick Mini 4. Questo è stato il mio primissimo arcade stick. Questo ve l'avrò detto in 10.000 video diversi. Questo raga l'ho preso in bundle con Injustice 2 da 1€. L'ho pagato una trentina. Che dire. Stick che preso singolarmente si trovava anni fa da 1€. Da GameStop. Era un'esclusiva GameStop sta roba. Raga uno dei peggiori stick che abbia mai provato. O almeno per i tempi era buono quando l'ho preso. Ma perché quando l'ho comprato questo io non l'ho comprato per giocare i ghiacchia duro. O almeno non solo. Io già ai tempi ero fanatico di esperienze arcade. Quindi Neo Geo, Mame, Final Bard. E l'ho preso per giocare a Metal Slug, per giocare a Street Fighter, per giocare a Puzzle Bubble, a King of Fighters. Cioè volevo avere l'esperienza della sala giochi direttamente a casa. E all'inizio funzionava anche bene per carità. Mi è durato questo circa 6 mesi. Dopo 6 mesi, più o meno, a furia di usarlo, la leva ha iniziato a rompere le palle. Cioè ha iniziato a diventare imprecisa. Cioè gli input non funzionavano correttamente. Tipo ad esempio, faccio un esempio stupido. Io premevo per saltare in avanti in Street Fighter e mi saltava in alto. Poi provavo a fare le mezzelune e mi faceva tutt'altro. Cercavo di fare i quarti di giro alle mezzelune e mi faceva tipo o il pugno basso, mi faceva e tirava il pugno in basso. Oppure mi faceva praticamente altro, mi faceva. E il che era la cosa, mi scocciava. E spesso e volentieri mi portava anche a perdere, mi portava anche a perdere meriti che non avevo, cacchio. Non avevo. Tra l'altro quando uscì questo modello si diceva che non era compatibile con il PC. Più che altro non era compatibile con Street Fighter V su Steam. Poi non lo so cosa è successo, pare che con i vari aggiornamenti abbiano migliorato la cosa. Ora qui manca, vabbè, manca il cerchietto qua perché l'ho levato e l'ho messo su un altro stick. Però vi posso assicurare raga che nonostante tutto io abbia provato a ripulirlo un sacco di volte. Cioè niente, zero, non sono mai riuscito a farlo funzionare. In più mi mangio le mani che è così piccolino come è. Questo sarebbe un perfetto stick da viaggio, sarebbe. Se non fosse per il fatto che non è modificabile. Non è assolutamente modificabile per vie legali, per vie normali. Cioè nella serie non posso semplicemente sostituire tasti e leva e via. E amici come prima. No. Cioè qui è tutto saldato. Quindi se io volessi modificarlo in maniera un po' più consistente, ma vi posso assicurare che è impossibile da fare, dovrei dissaldare tutto, fare un macello. Cioè nella serie proprio non ne varrebbe, nemmeno la pena non ne varrebbe. Per tanto tempo è stato veramente un monastic funzionante e tutto, però mi son reso conto della scammata quando... solo molto tempo dopo. Il bello è che quando uscì questo gioco con il bundle, quando uscì il bundle, uscì con Mortal Kombat X e Injustice 2, che potevi uscire una delle due versioni, e praticamente costava la bellezza di 70 euro il bundle. Mortacci, 70 euro. 70 euro per sta cacata, raga. Cioè, no, grazie. A questo punto gioco da pad, continuo a giocare da pad. Vaffanculo. Ma perché ripeto, ancora non ero fissato con i picchiaduro, con... Però, raga, cioè, porco di sì. Cioè io infatti ho iniziato a giocare i picchiaduro, è stato anche grazie a lui, è stato. Infatti, ricordo quell'anno, pure grazie a Lecce Comics 2019, provai il Mayflash F300. Inizio, magari vendo quello, così questo lo metto via. Poi, poi fortuna volle che per 90 euro trovai, per 95 euro trovai l'OriRap 4, quella volta su Amazon, usato. E con quello, diciamo, diciamo che ero sistemato, se non fosse che poi inizia la mia mania di collezionismo verso questa periferica che ho iniziato a comprarne. a pacchi ho iniziato a comprarne. Ma vabbè. In ogni caso, addirittura, raga, questo stick venne poi riproposto, tempo dopo, per Nintendo Switch. Venne riproposto. Esiste anche una versione per Nintendo Switch. Come il fatto che esiste anche una versione del vecchio Ori Fighting Commander, uscita anche per Switch. Uscita. Che poi, tra l'altro, io una volta su YouTube ebbi la discussione con un tizio riguardo questo, che aveva unboxato la versione Switch e ho detto, quello stick non è il massimo, fa un po' cagare, i soldi secondo me sono un po' buttati, c'è di meglio a quella cifra. Si gira, eh no, ma che cazzo stai dicendo? Lo stick è buono. È meglio questo di quelle scammate da 150 e passa euro che fanno schifo. Cioè, io quando ho sentito queste parole ho detto, ma questo non sta bene. Cioè, questo migliore di uno stick professionale per i picchiaduro. Cioè, certo, chiaramente è normale che se tu compri uno stick da 150 euro non lo usi solo per giocare col mame. Io ho visto gente comprarsi l'OriRap 4 per giocare a roba come Puzzle Bubble. E francamente ho detto, ma... Cioè, io dico, no, ma... Ma che cazzo fate? Un conto, dici, se lo prendi e giochi a 360 gradi, magari, ok. Ma prenderlo solo per giocare con gli emulatori, uno stick così costoso, per giocare col mame. Ma prima che te lo fai da te e risparmi. Cavolo, io dico, no? No, perché bisogna... Cioè, vabbè. Ma per una questione di logica, eh. Non perché bisogna... Non perché, sai, non perché bisogna spendere chissà quanto. Comunque, raga, tutto sommato, sto stick... Ripeto, finché lo utilizzi, no? Per il mame, tipo, per giocare a Puzzle Bubble, lo stronzate. Ma ci può anche stare, raga, io non lo metto in dubbio. Ma, tipo, se già considerate di giocare i picchi a duro, lasciatelo perdere. A livello proprio di qualità generale, devo dire, i tasti non sono neanche tanto male per essere dei tasti in plastica. E la leva, pure, magari, fatta un pochino l'abitudine, può anche andare bene, però, ripeto, pensare di usarlo per giocare in maniera frenetica i picchi a duro non ne vale la pena. Poi, considerate, raga, che questo è uno di quegli stick senza shaft cover, il che significa che a lungo andare la leva finisce per usurarsi, finisce, e quindi tende a essere, tende a iniziare a far cagare, tende a iniziare. Ma, ripeto, la qualità generale fa proprio schifo. Questa è roba low budget, proprio, no, che te la tirano dietro, te la tirano dietro a pochissimo, roba che, giusto, se vuoi avere l'esperienza della sala. Dal canto mio, devo dire che, comunque, questo l'ho usato tantissimo per giocare a Soul Calibur V. E, posso essere onesto, raga, su Soul Calibur faceva il suo lavoro, faceva il suo sporco lavoro. Funzionava davvero bene. Su Soul Calibur funzionava bene. Ma solo con Soul Calibur, se, tipo, se provavo a giocare a Tekken o a Street Fighter, raga, potevo benissimo prenderlo e buttarlo dalla finestra. Dato che faceva assolutamente cagare. Cioè, ora, non l'ho mai provato, addirittura l'ho provato a giocarci anche con Injustice, ho provato a giocarci con esso. Anche con Injustice, devo dire, fa il suo lavoro, eh. Fa il suo lavoro anche con Injustice. Però, francamente, oddio, meglio del pad mi trovavo quando giocavo con questo. Su Injustice, parlo sul primo Injustice, eh. Meglio di quando giocavo con il pad mi trovavo. Però, per il resto, raga, devo dire, è uno stick che, se va utilizzato, va utilizzato principalmente con gli emulatori. Non oltre. Non gioca... Se per dire, provate a giocare, tipo, con i picchiaduro di Steam o con altre cagate, nì. Tipo, io, infatti, l'ho usato anche tantissimo su PlayStation 3, quando giocavo a roba come Tekken 2, Street Fighter Alpha 2, il primo Alpha, e cose così. Cioè, perché comunque erano giochi senza troppe pretese, roba stupida. Cioè, o, per dire, Super Street Fighter 2 Turbo HD, c'ho giocato. E, tra l'altro, ci sembra incredibile, ma vero, questo Super 2 Turbo. Ho vinto un sacco di partite con lui, ho vinto. Cosa che non posso dire con... con Cosu, con Street Fighter 3 Third Strike Online Edition. Ma, vabbè, raga, lasciamo perdere. Per il resto, raga, comunque, se il video vi è piaciuto, comunque, raga, ditemi la vostra nei commenti, ditemi cosa ne pensate di sta roba. E, per il resto, raga, se il video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciarmi like e un commento, iscrivetevi al canale, commentate, condividete, e noi ci rivediamo alla prossima. Bella, ragazzi!